ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video su clash royale su pavax 39 e oggi farò un'altra challenge però non c'ho la webcam se no vedete quale challenge era però ve lo dico subito e si chiama non so il nome della challenge l'ho inventata io credo non lo so che devo prendere dei bigliettini che devo scrivere che non lo sono fatti io l'ho fatta da mia sorella veluro i bigliettini che c'è scritto il nome delle 54 carte no tutte 54 quel che c'ho credo quindi ragazzi iniziamo poi lamenterò il nome ecco c'è il primo c'è bombarolo spero che è un deck di merda spero che è un deck di merda del bombarolo eccolo spiritelli di fuoco perché il ghiaccio non ce l'ho scherzi cavolo ci ho tutti scoperti eh no tutti scoperti io scrivo veloce poi ora aspetta che lo tengo pronto poi capanna di goblin ok capanna di goblin non lo fa mettere scarica la scarica io la chiamerò la blinde challenge boh poi ehm cosa c'è scritto ah c'è scritto la orda di scheletri ragazzi c'è scritto proprio la orda di scheletri la metterà a posto la scarica faccio un po' uno strappo le regole ragazzi questo sarà il mio deck perché c'è scritto la scelta i bigliettini spero e perché poi non c'è più altro sennò il giro del luco sono cose così spero che mi senti dalla voce perché c'è la campane cazzo hanno tornato ah è già uscita poi farà un'altra carta l'hanno confermata che serve questa di Renato ragazzi faremo subito una battaglia su questo mazzo spero spero ecco subito lo veleno subito oh oh segale 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 hai saputo che hai fatto questa challenge ma che cazzo cazzo dai scheletrini complicato non è mai che erano quattro che hanno fatto gli altri movimenti da me dai che deck di merda dai 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 ma si non so che non ho fatto un deck di merda poi la saluto perché stamani ho fatto un altro video su su spero se la palline ho fatto l'altro youtuber nooo e dai 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 Ragazzi Sto nell'attacca Ragazzi Andatemi merda Ce lo cambierò Non è che faccio Il battaglio con questo Se vinto o il culo Non farò tantissimo battaglio Le sto facendo pure Gli ho fatto la stella E' già tanto Quello che C'era l'infernale Volevi Dai Non volete la manchina Perché non sto zitto Ragazzi Ragazzi Ho vinto Ragazzi ho vinto Per 300 di vita Madore Ragazzi Adesso aspetta Non vedo Ok non voglio Levarmi di mezzo Dai faccio un'altra battaglia Pena Che nome Eh Forse lo sapete Numero all'infondo Questo in mezzo Ha messo la strega Ma i scheletrini Oh Oh ma no Noi scheletrini Devo potenziarli Per blocare Questo è a livello 7 Io sono a livello 9 Aspetta Io che ho detto Ma piccoli ma tosti Quello lì La pubblicità Che se ne avete visto La pubblicità Che se ne avete visto Come si chiama Sì The Dash Royale Piccoli ma tosti Le mini pecca E Questo E il lordo di scheletri E ho fatto già una stella Ragazzi Ho fatto già Una stella E' tutto Ragazzi Questa è per partire Per Che è dentro E poi si provo A mettere tutti insieme Come avevo dicendo La pubblicità Aspetta Quando vuole Prendi scheletrini Grazie Che deck merda Dai però La misurella ha trovato Allora Thessala F District Le primi Nova Grazie faremo un altro live una vinta una persa poi facciamo un'altra cinese grazie no porca puttana no madonna ragazzi no ragazzi non c'ho niente di aria devo aspettare questo da resiste resiste non c'è l'umano qua ero fottuta io troppo tra fottuta non c'è l'umano un tocchiatore volevi no volevo ha toccato pochissimo dai ragazzi cimitero ragazzi con gli schieradrini su con gli schieradrini ragazzi che vincera cimitero schieradrini ragazzi 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 oddemi che non è malissimo però lo cambierà ecco Fra c'è un'altra cosa? chi è più forte? chi è più forte? madonna ragazzi il bordello ora esplode nel gioco ragazzi se posso esplodere su mi ha fatto il c***o leggermente ragazzi è già 12 minuti e 45 ragazzi questo video è finito mettete un po' di cinza mettete un po' di cinza come vi vedete questo nuovo video ciao bene ciao ragazzi